è passata soltanto una settimana dall'ultima volta che ci siamo visti eppure mi sembra come se fosse passato un anno la verità è che mi siete mancati ma nell'ultima settimana sono successe un sacco di cose prima fra tutte e che ho cambiato lavoro e così ho dovuto lavorare il doppio per raggiungere il resto della squadra che aveva un vantaggio di un mese e non volevo ripresentarmi dopo le ferie stando indietro e così anche io da oggi sono in ferie e ne approfitto per rimettermi in pari anche qui e lo faccio con questo video che in realtà è un video un po' diverso dal solito ma è un video che mi è stato ispirato da una chiacchierata bellissima che mi ha aperto gli occhi davanti a un bicchiere di vino così vi invito a seguirlo fino alla fine e perché no magari farmi sapere anche le vostre opinioni al riguardo sigla in mineralogia il metamorfismo e quell'insieme di trasformazioni che subisce una roccia quando viene a trovarsi sotto pressione oppure sotto stress e allo stesso modo lo stress che abbiamo dovuto sopportare tutti quanti noi da febbraio fino ad oggi ha in realtà messo in evidenza delle crepe nella nostra società che non possiamo più ignorare tutti e dico veramente tutti siamo stati colpiti dalla pandemia alcuni di più altri di meno nell'immediato ma le vere conseguenze della pandemia dobbiamo ancora affrontarle tutti quanti abbiamo passato troppo tempo a cercare i colpevoli della pandemia da coronavirus e ci sta perché siamo stati tutti quanti presi alla sprovvista ma totò diceva che nei momenti di crisi le persone intelligenti cercano le soluzioni mentre invece gli sciocchi cercano i colpevoli e perciò continuare ancora a dare la colpa alla cina piuttosto che alle aziende che sono rimaste aperte ai presidenti delle regioni ai sindaci o al governo non ci farà uscire dalla più grande crisi economica sociale e sanitaria che abbiamo conosciuto alla seconda guerra mondiale fino ad oggi parlo di crisi economica perché nell'ultimo report sullo stato dell'economia globale stilato dalla banca mondiale prendendo in relazione 183 paesi ne è uscito fuori che il 90 per cento di questi subirà un calo del pil di 5,2 punti percentuale in realtà è più del doppio rispetto alla crisi del 2008 questo in parole povere significa che nel prossimo futuro ci saranno molti più poveri e basti pensare che nelle prime quattro settimane di lockdown negli stati uniti d'america 40 milioni di persone hanno perso il posto di lavoro parlo di crisi sanitaria perché 20 milioni di persone sono rimaste contagiate dal coronavirus e ci sono stati più di 700 mila morti in realtà non serve uno scienziato per capire che questi sono dei numeri in difetto ma se pensiamo soltanto ai numeri forse questa non è la crisi sanitaria più grande che abbiamo conosciuto perché c'è stata sicuramente l'influenza spagnola che ha fatto più vittime esattamente 50 milioni contagiando esattamente 500 milioni di persone oppure possiamo pensare all'aids che ad oggi ha mietuto 32 milioni di vittime e ancora ne fa 2 milioni all'anno per non dimenticare anche la malaria che ancora ogni anno uccide 400 mila persone ma nonostante questo però è vero che la pandemia da coronavirus è stata sicuramente una crisi senza precedenti non ci dimentichiamo che 4 miliardi di persone sono rimaste confinate a casa e questo quindi ci fa capire che la crisi economica sociale e politica è senza precedenti per anni interi i sistemi sanitari si sono soltanto concentrati a rendere croniche delle malattie che prima erano delle vere e proprie condanne a morte basti pensare soltanto all'aids questo grazie a dio è stata una fortuna ci sono riusciti ma assolutamente non basta soprattutto perché noi in occidente ci preoccupiamo della sanità soltanto quando veniamo minacciati da un'epidemia è un esempio è proprio l'oms che tutti quanti conosciamo soltanto oggi e l'aids pensate soltanto che la stragrande maggioranza delle 32 milioni di vittime dell'aids sono concentrate nel sud del mondo e sono avvenute proprio quando l'occidente ha pensato bene di non preoccuparsene più perché per noi non era più una minaccia e come se non bastasse complice una politica e una parte dell'opinione pubblica antiscienza non ci siamo preoccupati della prevenzione come per esempio i vaccini con conseguenti pochi investimenti in ricerca e in politiche che dessero il giusto peso alla medicina di territorio e non soltanto la medicina in ospedale e parlo anche di crisi sociale andrà tutto bene ma andrà tutto bene un cazzo per tutto quanto il lockdown mi sono soffermato a leggere gli striscioni andrà tutto bene sul sui balconi delle case quando andò a fare la spesa a comprare sigarette o semplicemente a far fare i bisogni al cane eppure questi striscioni sono stati scritti da quelle stesse persone che a febbraio riempivano le bacheche dei social con le loro teorie pseudo negazioniste e sono proprio quelle persone che a marzo invece si sono divertiti filmandoli anche a prendersela con i runner con i ciclisti con i fumatori o semplicemente con chi aveva un cane e sono quelle stesse persone che oggi accalcano le spiagge e le discoteche la differenza reale tra la virologia e l'epidemiologia non è stata recepita bene e secondo me non è stata recepita bene nemmeno dai giornalisti che pur di dare informazioni hanno continuato a intervistare dei virologi che non ne sanno niente di epidemiologia o di pandemia o di saluta globale è così tutti quanti noi suscettibili alla simpatia o antipatia di questo personaggio di quell'altro personaggio che dicevano una cosa o l'esatto contrario abbiamo fatto la cosa più semplice di tutte ci siamo soltanto fermati a cercare il capro espiatorio dimenticandoci però di guardare le evidenze e provare a fronteggiarle come la scuola dove i ragazzi si sono arrangiati grazie alla buona volontà degli insegnanti ma realmente nessuno ha fatto una vera didattica digitale a distanza vuoi per le disuguaglianze non soltanto di carattere tecnologico ma di disuguaglianze tra istituto e istituto tra insegnante insegnante tra alunno e alunno e vuoi anche perché è mancato il progetto di scuola del futuro mentre invece ci si è preoccupati soltanto di una scuola dell'emergenza oppure penso ancora alle evidenze nel lavoro dove tutti quanti ci siamo riempiti la bocca con la parola smart working dove per natura però lo smart working prevede autonomia per il lavoratore senza nessun vincolo di orario mentre invece noi abbiamo assistito soltanto a un telelavoro cioè le stesse mansioni del dipendente ma fuori dall'ufficio per non parlare poi degli effetti della pandemia proprio sulla salute mentale delle persone disturbi del sonno l'ansia l'irritabilità sono soltanto i primi dei sintomi dei disturbi da stress post traumatico da coronavirus non ci sono dati certi ma di sicuro fino ad oggi ci sono stati già 49 suicidi e 30 tentativi di suicidio che sono correlati proprio al coronavirus allora allora io non sono uno scienziato non sono un virologo non sono un epidemiologo non sono un economista e non sono neppeno uno psicologo sono soltanto una persona normale che però non vuole perdere tempo a cercare ancora dei colpevoli a cercare un complotto a tutti i costi e sono anche una persona che vuole provare a cercare ea trovare le cause di quello che è successo cause che sono nel passato e non vanno ricercate come invece abbiamo fatto nel presente e vorrei anche provare a pensare a delle soluzioni che in assoluto vanno cercate nel futuro di una di queste cause se ne parla ormai da anni anche se non gli diamo molto peso e molto credito e infatti parlo dopo della pericolosità della deforestazione degli allevamenti intensivi all'interno dei polmoni verdi infatti ci sono tutta quanto una serie di virus che noi non conosciamo e che convivono con gli animali del luogo e non non sono nocivi non fosse altro perché gli animali sono cresciuti insieme a questi virus ma spostati dal loro habitat fanno danni per esempio nel 1997 è stata incendiata un'area grande quanto la pennsylvania nella foresta pluviale indonesiana per creare delle coltivazioni agricole questa deforestazione ha spinto le volpi volanti a trovare il loro cibo altrove l'hanno fatto esattamente sulle piante da frutto della malesia e proprio lì che vivevano dei maiali questi si sono ammalati mangiando i frutti cauti da questi alberi probabilmente morsicati dalle volpi volanti e subito dopo si sono ammalati anche i loro allevatori ed è stato individuato così il primo caso del virus nipa che ancora oggi si sviluppa nel sud est asiatico e nuoce vittime e mortale e la stessa cosa è successa per il virus lassa per la malaria oppure per la malattia di lime e un'altra causa inevitabile per esempio la globalizzazione che ha portato tutti quanti noi a viaggiare molto di più e quindi anche a permettere a un virus altamente contagioso di fare il giro del mondo in molto meno degli 80 giorni che ci ha impiegato fil fog a questo punto che non si può più tornare indietro le soluzioni si possono trovare soltanto guardando nel futuro e sicuramente le soluzioni non possono non prevedere il digitale come al centro del progetto e come strumento per costruirci un mondo nuovo rispetto a quello che invece ha fallito e il digitale ci serve per trasformare proprio la pandemia in un'opportunità per riprogettare tutto quello che non ha funzionato e se non ne saremo capaci la tragedia sarà assolutamente doppia e così nella ricerca di queste soluzioni penso prima di tutto ad internet perché la banda larga l'internet veloce la fibra non può non passare ovunque non è più ammissibile lasciare gli imprenditori privati scegliere dove passerà la fibra immagino poi ancora una scuola e un'istruzione più moderna che efficace che inclusiva e immagino una scuola del futuro che non si può soltanto freggiare di dotazioni tecnologiche perché la nuova scuola deve dare vita a delle lezioni immersive a delle letture condivise o addirittura anche a una formazione personale una formazione individuale li abbiamo già gli strumenti possiamo usare fin da subito applicazione di social reading come per esempio bat will o book sheriff che permettono di leggere un romanzo e contemporaneamente anche commentarlo penso al lavoro del futuro dove bisogna uscire dall'idea delle ore lavorate e bisogna dare più fiducia ai dipendenti cosicché si possano ridisegnare le mansioni per loro sulla base degli obiettivi bisogna rifondare anche la protezione civile perché possa pianificare tutte quante le attività sulla base di dati oggettivi di dati sicuri di dati certi che sono tracciabili che sono anche accessibili e che sono trasparenti perché di fronte a una nuova minaccia globale è importante anche prevedere un futuro rischio bisogna coordinare tutti quanti gli interventi successivi e bisogna anche coinvolgere le persone mi immagino la possibilità che venga presidiato il web e i social cosicché possano trasparire solo esclusivamente delle notizie certe così che possano essere bandite il più possibile invece le fact news e immagino da parte nostra una collaborazione totale possiamo diventare dei volontari digitali come per esempio è già successo nel 2012 in America in occasione dell'uragano Sandy oppure nel 2013 in Sardegna in occasione dell'alluvione e penso ancora degli ospedali che siano fantascientifici senza sale d'attesa prendendo per esempio lo schema dei voli aerei dove il check in viene fatto il giorno prima e così le prestazioni per esempio possono essere pagate online tramite smartphone ci si può regare in ospedale nell'ambulatorio prescelto solo esclusivamente nell'orario prefissato magari avendo una conferma tramite un sms immagino ancora degli ospedali senza maniglie senza interruttori senza pulsanti abbiamo già nelle case degli aggeggi come Google Home piuttosto che Alexa che ci permettono per esempio di accendere le luci in 40 metri quadrati ma perché allora non utilizzare questi strumenti in luoghi ad alto contagio e mi immagino ancora ospedali che gestiscono i malati che non hanno bisogno di ospedalizzazione da remoto piuttosto che in ospedale e che lo possano fare attraverso una integrazione una relazione tra i medici e le intelligenze artificiali quello che spero io e quello che mi aspetto è che iniziamo a rispettare il nostro pianeta e cominciamo ad acquistare l'energia green iniziamo a mangiare meno carne se possiamo permettercela compriamo invece una macchina elettrica cooperiamo questa è la cosa più importante tutti quanti dobbiamo fare alla nostra parte perché da soli non se ne esce da soli non andrà tutto bene so che tutti questi miei pensieri o queste ipotetiche soluzioni sono dei vaneggiamenti ma in assoluto preferisco chiudere gli occhi e pensare in maniera propositiva preferisco prendere esempio da chi in giardino ha già iniziato a prendere a calci le colture intensive piuttosto che fermarmi sul balcone e continuare a cercare qualcuno a cui dare la colpa perché no, non è uscito il meglio da noi in questa situazione ma abbiamo ancora tutto quanto il tempo per riuscire a correggerci e penso anche che una buona campagna di marketing sia necessaria e sia utile per farci immaginare queste idee, questi vaneggiamenti come qualcosa di reale come un'esigenza da perseguire e da soddisfare e sono convinto anche che cooperando e tutti quanti mettendo in piedi quelle che sono le nostre idee e sforzandoci di fare veramente il meglio per il nostro futuro davvero riusciremo ad uscirne e riusciremo a fronteggiare le prossime pandemie o le prossime emergenze che dovremo affrontare detto questo se vi piace come al solito mettete un like al video mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale perché ormai ve l'ho confidato mi mancate e fatemi sapere quali sono le vostre idee per il futuro o come magari avete fronteggiato questo periodo e ditemi un po' quello che ne pensate ciao